Parliamo di una coppia di uomini e donne, signori, anche se al programma non ci sono più. Parlo di Salvatore Di Carlo e Teresa Ciglia, che sì, hanno fatto parte del programma e che adesso si sono lasciati dopo ben sei anni di matrimonio e questo sicuramente ci dispiace. La comunicazione dell'avvenuta separazione è arrivata tramite lei, è arrivata nelle settimane scorse, solo che adesso, attenzione, perché la notizia bomba è proprio questa, sul calciatore che avrebbe già trovato un'altra fidanzata. Di già. Queste almeno sono le voci uscite fuori qualche ora fa, che sono state rilanciate dall'esperta di gossip di Yanira Marzano. È immediata la replica di Teresa che ha spiegato ufficialmente la sua posizione, che sicuramente non è simpatica. Si era capito che Salvatore Di Carlo e Teresa Ciglia si fossero detti addio quando lei sui social aveva postato una frase che ricitava un Grazie non basta. No, non basta. Perché in questi giorni ogni singolo messaggio vostro mi ha scaldato il cuore, ma soprattutto ho percepito quello che fino a poco tempo fa sembrava essere svanito. La solidarietà, amarsi l'un l'altro, aiutarsi a vicenda, sembrava quasi che molti valori erano del tutto persi e invece no. No, no. Si può amare, si può farlo in mille modi, ma se una persona cade bisogna aiutarla sempre. Grazie. E questo è stato il messaggio. Ma messo da parte un attimino il matrimonio, Salvatore Di Carlo e Teresa Ciglia del programma UED sono ovviamente ripartiti. Chi, a modo suo, insomma, cioè ognuno è partito per la sua strada. Ma nessuno si aspettava già di dover leggere una notizia così importante su di lui, perché a poco dalla separazione lui avrebbe già trovato conforto su un'altra donna. Come detto da una follower di Dejanira Marzano, sì, perché quest'ultimo ha pubblicato questa segnalazione giunta dalla Sicilia. E Teresa ha poi voluto dire la sua su questa novità riguardante l'ormai ex marito, il quale continua a rimanere in silenzio. E voi mi insegnate che se rimane in silenzio significa, come si dice, chi tace acconsente, no? E invece proprio lei poi si è lasciata andare ad uno sfogo sulla piattaforma Instagram. Ma capiamo un attimino cosa ha detto. E allora? Eh, attenzione, che qui volano parole grosse. Teresa ha detto, per me, lui può far quel che vuole. Non metto in discussione questo. Libero di uscire con altri ragazzi, ma certo che può farlo. Però ci tengo a dire una cosa. A me non va di andare a sporcare un'altra persona. Io provo rispetto per quello che c'è stato e soprattutto provo rispetto nei miei confronti. L'unica cosa che mi va di dire è che mi viene da sorridere. Un po', sì, un po' mi viene da sorridere. E mi viene da dirvi che le risposte le avete avuto. E non c'è bisogno che io aggiunga altro. Quindi, va bene così. E questo, signori, è tutto per la sua dichiarazione. Vi ringrazio per l'ascolto, per questo video è tutto. Un abbraccione virtuale da Max. Noi ci becchiamo probabilmente domani per altre news. E niente, vi aspetto su Pausa Caffè, come sempre.